Colpito da uno spara a Coriandoli durante la festa patronale, muore un uomo a Militello Val di Catania, ferita la moglie, festeggiamenti sospesi. Perde il controllo dell'auto e travolge alcune persone in un bar, almeno sette feriti, è successo a Caltagirone. Spaccio in centro storico a bordo del suo monopattino, extracomunitario arrestato a Palermo dei Falchi della Polizia. Castelbuono Jazz Festival. Fino al 26 agosto, nove giorni consecutivi di grande musica. Ieri sera a Tochigno ha ottenuto un concerto in omaggio al grande giornalista Gianni Minà, originario proprio di Castelbuono. Calcio Serie B. Finisce a reti bianche la gara d'apertura del campionato con il Palermo che non riesce a vincere sul campo del Bari, nonostante la doppia superiorità numerica. Edizione del fine settimana, oggi sabato 19 agosto, dopo i titoli d'apertura, ecco la prima notizia. Tragico incidente ieri a Militello in Val di Catania, dove un uomo ha perso la vita durante i festeggiamenti patronali in onore del Santissimo Salvatore. La vittima è stata colpita alla testa da un tubo utilizzato per sparare i coriandoli. Festeggiamenti immediatamente sospesi. Doveva essere una giornata di festa, trasformata purtroppo in tragedia. La festa del Santissimo Salvatore, il santo patrono di Militello in Val di Catania. L'esplosione intorno alle diciassette, all'uscita del santo di un tubo spara a coriandoli posizionato all'uscita della chiesa, ha provocato la morte istantanea di un uomo di 65 anni, Franco Carrera, deceduto dopo essere stato investito dallo scoppio. Ferita ad un braccio la moglie della vittima, che è stata subito trasportata all'ospedale e poi trasferita a Catania. L'oggetto, come dimostrano le immagini condivise su tutti i social media, è stato lanciato in aria e con un balzo considerevole ha atterrato diversi metri più avanti dalla sua posizione iniziale. Purtroppo numerose persone hanno riportato lesioni minori, tra cui escoriazioni e lesioni causate da frammenti di legno e metallo. L'incidente ha causato momenti di panico in piazza, di fronte alla chiesa di San Nicolò Santissimo Salvatore, a causa delle voci che circolavano riguardo ad una possibile fuga di gas. I festeggiamenti sono stati immediatamente sospesi, sul posto sono intervenuti carabinieri e autombulanze, ferita di striscio ad una gamba la giornalista Sara Donzuso di Video Mediterraneo, l'emittente che era impegnata nella diretta televisiva della festa. La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno proprio le immagini girate dall'emittente Video Mediterraneo. Il sindaco di Militello Giovanni Burtone afferma, siamo sconvolti e senza parole per ciò che è accaduto, le autorità accerteranno le dinamiche e responsabilità, in questo momento solo dolore. A Caltagirone un'auto piomba sui tavolini di un bar, almeno sette feriti, alcuni sono in gravi condizioni. Grave incidente ieri sera a Caltagirone, un'auto è piombata sulla gente, travolgendo diversi passanti e alcune persone che erano sedute ai tavolini di un bar in piazza Municipio, almeno sette feriti, alcuni sembrerebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze della 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo i racconti di alcuni tessimoni, l'auto sarebbe giunta a velocità sostenuta ed avrebbe dapprima urtato contro un muro laterale, per poi finire sull'agente. Al vaio la posizione del conducente della macchina, un anziano signore che pare abbia avuto problemi con il cambio automatico della Mini Cooper. A Palermo, in manette extracomunitario, dedito lo spaccio in centro storico a bordo del suo monopattino. L'operazione di polizia è stata eseguita dal reparto Falchi. In manette spacciatori monopattino, si tratta di un cittadino extracomunitario colto sul fatto dai Falchi alla polizia in via Macheda. Nel tratto vicino al mercato di Ballarò, a Palermo, il personale di polizia è stato attirato al fare sospetto e lo straniero, che intenta parlare con altri connazionali, si muoveva con circospezione, armeggiando nei pressi di un monopattino che aveva con sé. Il personale a bordo di moto, dopo essersi avvicinato, utilizzando ogni accortezza per scongiurare il pericolo di fuga, ha bloccato il sospettato senza che questi potesse accennare la minima resistenza. Sottoposta perquisizione, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina per un totale di 5 grammi e 23 dosi di sostanza stupefacente di colore marrone del tipo Ashish per un peso complessivo di 17 grammi, già imbustate e suddivise in dosi, oltre che la somma in contanti di 395 euro. Giova a precisare che la gran parte della sostanza stupefacente era stata occultata nel vano Portoggetti e il monopattino. Tale riscontro ha confermato i sospetti del personale operante in ordine al dato investigativo, secondo cui l'indagato era solito avvalersi al monopattino nella gestione delle sue attività illecite di acquisto e spaccio della sostanza stupefacente. Successivamente una perquisizione domiciliare ha fatto ritrovare sotto il materasso e la camera da letto e l'abitazione dell'uomo altra sostanza stupefacente al tipo Ashish del peso complessivo di 253 grammi, suddivise in tre panetti, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento, un bilancio di precisione e la somma complessiva di 3.485 euro. Il ritrovamento della sostanza stupefacente in quest'ultimo caso è stato reso possibile grazie ad approfonditi accertamenti svolti tramite il local ufficio immigrazione che hanno permesso di individuare il reale domicilio e lo straniero che aveva fornito agli operatori indicazioni errati al fine di sviare le indagini. E torniamo a parlare degli arresti avvenuti per lo stupro di gruppo e danni di una giovane palermitana lo scorso luglio in pieno centro storico. La regione siciliana è pronta a costituirsi parte civile contro gli autori della violenza. Lascia una ferita profonda per l'intera società civile lo stupro subito in pieno centro storico da una giovane palermitana lo scorso luglio. Sette giovani, tra i quali un minorenne, arrestato e indagati a vario titolo in seguito all'episodio che ha lasciato sconvolta l'intera città. Renato Schifani, presidente della regione siciliana, afferma che la regione è pronta a costituirsi parte civile contro i presunti autori della violenza. Profondo dispiacere per la gravità inaudita dell'episodio e totale solidarietà alla giovane vittima. Auspico che i colpevoli paghino senza sconti la loro bestialità di fronte alla giustizia, ha continuato il governatore Schifani. Sono sgomento, ha poi sottolineato il presidente, per quanto sta emergendo dalle indagini degli inquirenti. Lo sono come presidente, ma ancora prima come padre. Mi stringo forte a questa ragazza e la sua famiglia. La regione farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per essere a loro fianco, a partire dalla decisione di costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale relativo allo stupro di gruppo di cui è rimasta vittima. Crediamo si tratti di un gesto ineludibile di fronte a casi di efferata violenza e di particolare impatto a rilevanza sociale nella vita della nostra comunità. Lo dobbiamo alla giovane vittima e a tutte le donne che subiscono violenza. Anche Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, è intervenuto a proposito del fatto raccapicciante e ha dichiarato che la violenza sessuale subita alla giovane ragazza palermitana ha lasciato sgomenta alla nostra comunità, un episodio da condannare con fermezza, auspicando il massimo della pena possibile per i colpevoli, che difficilmente possono essere definiti esseri umani, da parte mia e di tutta l'amministrazione, la vicinanza alla vittima degli abusi e alla sua famiglia e la volontà del comune di stare al loro fianco. Questa triste e ingiustificabile vicenda lascia comunque un importante insegnamento che risiede tutto nel coraggio della ragazza di denunciare il branco che l'ha aggredita e ringrazio il comando provinciale dei carabinieri che ha condotto le indagini fino ad arrivare agli arresti. Mi auguro che questo gesto possa aiutare le altre donne vittime di violenza a denunciare e che in generale questa società possa compiere passi avanti superando logiche di prepotenza e aggressività, in particolare quelle degli uomini nei confronti delle donne, ha concluso il sindaco di Palermo. E cambiamo argomento. Commissioni di invalidità in Sicilia cambiano le regole. Nuove disposizioni sulla scelta dei componenti e sul metodo d'attuare per le rotazioni. La scelta del governo regionale per contrastare episodi di corruzione e illegalità. Commissioni di invalidità cambiano le regole in Sicilia. Una scelta del Presidente della Regione per contrastare illegalità e corruzione. Il meccanismo della rotazione, nello specifico, è uno strumento fondamentale per garantire imparzialità e trasparenza, dice il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. E' obiettivo del mio governo quello di introdurlo a livello regionale in tutti gli organismi che svolgono ruoli di valutazione. E per questo, già poco dopo il mio insediamento, ho firmato un atto di indirizzo che andava in questa direzione. Tra le nuove misure previste, quella in cui i componenti e i segretari non possono rivestire una carica politica a livello provinciale e non devono avere svolto lo stesso tipo di attività nell'ultimo anno, candidature incluse, in qualsiasi ambito, da quello comunale fino a quello europeo. I componenti non possono inoltre rivestire cariche sindacali o svolgere attività per patronati o di consulenza. Questo vale anche per congiunti o parenti fino al secondo grado. Inoltre, i membri delle commissioni non devono avere svolto lo stesso incarico per almeno cinque anni e, se non continuativi, negli ultimi dieci. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che ne fanno parte non possono operare nello stesso ambito territoriale nel quale esercitano la professione. Disciplinare rinnova il funzionamento di queste commissioni che svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dei soggetti più fragili della nostra società, ha continuato l'assessore regionale della salute Giovanna Volo, è il segno della precisa volontà del governo regionale di portare avanti un cambiamento nel rispetto dei principi di legalità. Interveniamo concretamente, ha concluso Salvatore Iacolino, dirigente generale della pianificazione strategica, che ha firmato le nuove disposizioni sulla discontinuità dei componenti delle commissioni e sulla rotazione. In ogni caso, dei segretari e dei componenti nei territori dove svolgono la loro attività, si tratta di un presupposto fondamentale assieme ai requisiti di partecipazione e ai relativi bandi di selezione. Proprio per garantire efficienza e trasparenza nella composizione delle commissioni, sono esclusi i candidati con evidente o anche potenziale conflitto di interessi. E rimaniamo sempre in tema di politica. Via libera dall'assessorato regionale delle attività produttive, al versamento di 21,6 milioni di euro dalla Crias, per il finanziamento di 311 aziende che hanno subito danni economici a causa della pandemia. Le risorse serviranno per la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero. Via libera dall'assessorato regionale delle attività produttive, guidato da Edita Maio, al versamento di 21,6 milioni di euro dalla Crias, la Cassa regionale per le imprese artigiane a favore di IRFIS per il finanziamento di 311 aziende che hanno subito danni economici a causa della pandemia. Le risorse serviranno per la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero. Le domande erano state già valutate in maniera positiva tramite un bando emanato dall'IRFIS nel novembre del 2021 e si procede ora per effetto dello scorrimento della graduatoria già approvata dal Comitato Fondo Sicilia. Il versamento dei fondi alle imprese richiedenti avverrà nei prossimi giorni. Il nostro obiettivo è supportare le imprese, specie in questo periodo, di tassi elevati, dice l'assessore Ta Maio. Stiamo lavorando con grande serenità grazie all'armonia tra le parti interessate. Lo scopo di IRFIS, come dice il nostro Statuto e come più volte evidenziato dal Presidente della Regione, Renato Schifani, spiega la Presidente di IRFIS, Yolanda Riolo, è quello di essere il braccio operativo della Regione a sostegno delle attività imprenditoriali dell'isola. I nostri uffici procederanno a strettissimo giro all'erogazione delle somme in favore dei beneficiari. L'intesa tra Crias e IRFIS per il passaggio dei fondi era stata siglata il primo giugno scorso nella sede dell'assessorato alle attività produttive. La Convenzione, che ha avuto il via libera anche dall'assessorato all'economia guidato da Marco Falcone, permetterà di erogare mutui fino a 100.000 euro a tasso zero per ogni impresa, con un preammortamento di due anni. Riprendiamo la linea in studio. In questa settimana di ferragosto la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera Etnea, ha previsto un potenziamento della presenza in mare sulle spiagge. In questa settimana di ferragosto la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera Etnea, ha previsto un potenziamento della presenza in mare sulle spiagge senza tralasciare l'attività di vigilanza nei porti. I numeri dicono che l'estate 2023 sta procedendo bene, in particolare tra il 12 e il 16 agosto, su oltre 220 controlli, 22 missioni in mare. Purtroppo le irregolarità non sono mancate. Sono stati elevati 24 verbali per un totale di 8.000 euro di sanzioni amministrative, un sequestro di unità da diporto sprovvista di assicurazione e un ritiro di patente nautica scaduta e non rinnovata, ma le proporzioni al confronto con gli scorsi anni fanno ben sperare in un trend positivo. È il segno di un più diffuso rispetto delle norme e di un maggior senso di responsabilità, frutto dell'attività di prevenzione dell'operazione ormai ultradecennale mare sicuro. Meno infrazioni e meno incidenti gravi, così come anche meno unità da diporto soccorse, sei richieste di assistenza per complessivi 25 diportisti. In questi giorni affollati di bagnanti e diportisti che si sono riversati nel litorale catanese, i controlli più serati degli uomini e delle donne della guardia costiera hanno consentito di prevenire e all'occorrenza fronteggiare con immediatezza le situazioni di emergenza, consentendo agli utenti di godersi in sicurezza il mare. Si è infatti registrato solo un soccorso il pomeriggio del giorno 16 agosto a circa un miglio a largo di Acicastello a quattro persone di nazionalità straniere naufregati a causa del capovolgimento dell'imbarcazione presa a noleggio, ma che per fortuna ha tutti messi in salvo e in buone condizioni di salute, tant'è che non è stato necessario sottoporgli a cure mediche e sono stati sbarcati nel porto di Acitrezza. Voltiamo decisamente pagina, continuano gli appuntamenti della rassegna cortili narranti dell'associazione Vivere Erice. Venerdì prossimo la proiezione del docufilm Einstein Italia. Infine venerdì 1 settembre si terrà un appuntamento filosofico intitolato Edipo e noi. Continuano gli appuntamenti della rassegna cortili narranti dell'associazione Vivere Erice. Ieri all'interno del cortile amico un incontro sulla storia e le tradizioni siciliane. Venerdì 25 agosto alle ore 21 presso il teatro Jebella Med avrà luogo un incontro con la scienza attraverso la proiezione del docufilm Einstein Italia e un dialogo tra Luisa Cifarelli e Sandra Linguerry. Un'opportunità per esplorare il mondo della scienza e approfondire il contributo di Albert Einstein. Venerdì 1 settembre alle ore 18 nel cortile Panfalone, appuntamento filosofico intitolato Edipo e noi, tragedie e filosofia a confronto, con un dialogo tra Diego Fusaro, Gaspare Panfalone e Massimo Bruno. Il premio letterario Città di Erice, giunto alla quinta edizione con il patrocinio dell'amministrazione comunale, resta la manifestazione di maggiore richiamo dell'associazione. Il premio, rivolto agli scrittori che hanno valorizzato la Sicilia e storie ambientate nell'isola, intende promuovere un interesse sempre maggiore verso la lettura ai libri. La fuga di Anna di Mattia Corrente, edizione Sellerio, è il vincitore del premio letterario Città di Erice 2023. Il libro vincitore è stato votato da una giuria di qualità di cui è presidente la scrittrice Silvana Grasso. La giuria è composta dal drammaturgo Guido Barbieri, dalla scrittrice Daria Galateria, dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, dalla scrittrice Simona Loiacono, vincitrice della passata edizione, dall'ex magistrato e appassionato di letteratura Dino Petralia. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 27 agosto alle ore 18 presso il teatro Jebella Med, alla presenza del vincitore della sindaca Daniela Toscano. L'evento sarà condotto da Silvana Grasso e Noemi Genovese, vicepresidente dell'associazione Vivere Erice. Gli eventi dell'associazione Vivere Erice fanno parte delle cartellone di Erice Estate 2023, organizzato dal Comune di Erice in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, Fondazione Ettore Majorana, Funierice e con il contributo di associazioni artisti vari. Per ulteriori informazioni e dettagli sui eventi è possibile visitare i profili social Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Erice. Rimaniamo sempre in tema, se già è stato Teatro Festival, eventi fino al 22 agosto, tra gli appuntamenti l'alba di domani. L'edipo a Colono di Sofocle è la nuova edizione della canzone di Giasone e Medea, in programma stasera e domani al Teatro Antico. La compagnia Le Belle Bandiere di Elena Bucci e Marco Sgrosso presenta in Prima Nazionale al Segesta Teatro Festival anche la nuova edizione di La canzone di Giasone e Medea, in programma stasera e domani al Teatro Antico. Lo spettacolo ideato a partire dai testi di Euripide, Seneca, Pollonio e Rodio fa esplodere tutta la contemporaneità insita nel mito greco, grazie ad alcune tematiche drammaticamente attuali, i diritti degli esuli in terra straniera, la violenza del potere nella polis e tra gli individui, la differenza tra amore e possesso ed ancora il valore della parola data, il sospetto verso le arti magiche e il timore della conoscenza. La vicenda della madre assassina e dell'eroe indegno di gloria diventa, secondo le parole di Elena Bucci e Marco Sgrosso, una ballata popolare che narra dell'amore che si trasforma in morte. Alla seconda edizione del Segesta Teatro Festival, l'alba di domani 20 agosto alle 5, l'ultima in programma sarà un vero e proprio rito musicale per celebrare la cultura mediterranea nelle sue molteplici contaminazioni, derive e approdi. Al sorgere del sole il Teatro Antico ospiterà il concerto del musicista e compositore magrebino Yamel Khabi, che per oltre un'ora incanterà il pubblico con un viaggio che parte dalla sua Tunisia verso altre rotte mediterranee con canzoni e musiche che valorizzano il patrimonio condiviso tra Tunisia, Libia, Algeria e Sicilia. La sera alle 19.30 con replica il 21 e il 22, il Teatro Antico invece ospita Edipo a Colono di Sofocle, adattato da Giuseppe Argirò. Anche in questo caso il mito offre una grande lezione d'attualità, perché l'ultima opera di Sofocle, rappresentata a postuma, non solo racconta la complessità imperfetta e meravigliosa dell'essere umano, ma ribadisce il diritto all'accoglienza dello straniero e il rispetto delle sacre leggi e l'ospitalità, ricordandoci che il mondo è di chi lo abita e che la salvezza del genere umano non sta nell'esclusione, ma nella catena sociale, che produce solidarietà e annichilisce un egoismo, privilegiando il bene della collettività. E adesso è il momento della musica con Castelbuono Jazz Festival. Fino al 26 agosto, nove giorni consecutivi di grande musica jazz, ma anche blues, musica argentina e brasiliana. In programma concerti dedicati ai più grandi gestissi di tutti i tempi. Dopo diverse tappe in giro per la Sicilia, il Castelbuono Jazz Festival ritorna nel suo luogo di origine, Piazza Castello a Castelbuono, dove fino al 26 agosto ci saranno nove giorni consecutivi di grande musica jazz, blues, musica argentina e brasiliana, con Tuchinho, Roy Paci, Chiara Civello, Niki Nicolai e Stefano Di Battista, Roberto Gattensemle e tanti altri. In programma anche un concerto in omaggio ai più grandi jazzisti di tutti i tempi, la notte del sax da John Coltrane a Fausto Papetti con Maurizio Gianmarco, Razio Maugeri, Claudio Gianbruno, Rosario Giuliani e una festa per Gianni Dorelli con Nick la Rocca Orchestra con ospite Gianluca Guidi. A chiudere la ventisesima edizione di uno dei festival più longevi d'Italia, un evento dedicato alle donne è soltanto amore, con sei delle cantantiggezze più apprezzate nel panorama italiano. Flora Faia, Daria Biancardi, Pamela Barone, Anna Bonomolo, Giuliana Di Liberto, Anita Vitale, con la partecipazione dell'attrice Clelia Cucco. Ieri sera Tuchinho, voce chitarra, ha tenuto un concerto in omaggio al grande giornalista Gianni Mina, originario proprio di Castelbuono. Con il suo timbro caldo e quel tocco delicato sulla chitarra, Tuchinho, insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, è stato protagonista di uno spettacolo di grande fascina, entrando in quell'anima poetica della bossa nova e nella magia inconfondibile degli afro-samba, serie percorso, i brani che hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo. Ad anticipare il concerto, la mostra tutto cominciò da Palermo Pop 70, un percorso fotografico di autori vari, con oltre 50 scatti ideato dal direttore artistico Angelo Butera. Stasera sul palco Roberto Gatto, uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. Ad accompagnarlo alla batteria ci saranno Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Lanzoni al piano forte e Matteo Bordone al contrabbasso. Domani la scena sarà di Chiara Civello, che porterà sul palco solo canzoni, un progetto esclusivo per il Castelbuono Jazz Festival, tra il grande jazz e il pop di qualità, venato di saporite sfumature latine. Adesso parliamo di musica. Dimmi cosa vuoi è il nuovo singolo del cantautore catanese Giuseppe Cucè, un brano che parla di amore universale, delle prove da superare ogni giorno per mantenere un rapporto. Ascoltiamo l'intervista. Come ti va? Abbiamo vinto gli errori, siamo qui di ritorno. Il cantatore catanese Giuseppe Cucè analizza il significato della parola amore attraverso il suo nuovo singolo dal titolo Dimmi cosa vuoi. Un brano che prende ispirazione dal vivere quotidiano dell'artista che cerca di indicare una strada e far riflettere su quanto si impari ad amare attraverso gli errori di ogni giorno. Una canzone che parla d'amore pur non decantando la parola amore, perché in realtà in questa canzone non nomino mai la parola amore, non a caso, proprio perché sembra quasi non più contenere quel sentimento che poi in realtà si costruisce nel tempo. È totalmente differente da quello che pensi, dal primo innamoramento, dagli innamoramenti di quando sei adolescente. L'amore vissuto, l'amore che in qualche modo vince gli errori, che supera ovviamente le difficoltà. Quello che cresce, nasce, muore ma rinasce nuovamente ogni volta ed è quello che in qualche modo lo racconto in queste canzoni. Chiedere a qualcuno cosa vuole in realtà è come, diciamo, non domandare a se stessi cosa voglio io, nel senso è darsi agli altri senza pretendere nulla in capo. Il videoclip di Dimmi Cosa Vuoi è stato scritto e diretto da Nanni Musico e trae ispirazione dal neorealismo dei maestri del cinema del passato. Esattamente. Nanni Musico e regista si è ispirato a registi come Ettore Scola. In questo caso abbiamo cercato di rappresentare un po' l'atmosfera delle immagini del film una giornata particolare. Proprio perché questo senso un po' claustrofobico che c'è nel video, dove tutto avviene in una stanza d'albergo, dove iniziano e finiscono le nostre partenze. in quel luogo o non luogo succede che in qualche modo ti confronti con te stesso. Cerchi di trovare, diciamo, la serenità giusta per affrontare il giorno successivo. E' il momento dell'arte. Presso la Casa Museo delle Maioliche a Palermo una stufa di fine Settecento della fabbrica Duca di Sperlinga. Un cimelio raro che rischiava di lasciare la Sicilia, ma che grazie al collezionista Pio Mellina resterà in città. Una stufa di fine Settecento a base quadrangolare con terracotta refrattaria per tutelare la maiolica. Il coperchio a tema vegetale ne permetteva il caricamento con il carbone. Le decorazioni in oro zecchino fatte a freddo impreziosiscono questo cimelio che rischiava di lasciare la Sicilia, ma che grazie alla passione del collezionista palermitano Pio Mellina ora potrà essere ammirata all'interno della Casa Museo delle Maioliche in via Garibaldi a Palermo, che ha già al suo interno un'esposizione di quasi 5.000 esemplari di mattonelle maioliche italiane dal XV al XIX secolo, disposte su nove sale. E' un acquisto che ho fatto qualche mese fa, subito dopo l'estate, ma per puro caso mi trovai in una casa d'aste che frequento abitualmente e vedi questo pezzo che andava a finire all'asta. Era stata classificata come una stufa di provenienza orientale, ma a me questa cosa non aveva per nulla convinto e quindi decisi di approfondire questa cosa. La guardai meglio e decisi comunque di acquistarla. Ebbi ragione perché in realtà è una stufa molto importante perché è stata realizzata dalla fabbrica del Duca di Sperlinga qui a Palermo ed è di fine settecento. È un pezzo estremamente raro che si inserisce all'interno del percorso espositivo che segue da tanti anni, quello appunto della Casa Museo Stanze del Genio, con la sua collezione di mattonelle antiche. Era un pezzo che francamente non si poteva perdere, nel senso che non poteva andare a finire in un'altra città, quindi ho deciso di acquistarla e ora qui in esposizione permanente. Realizzata la fabbrica Duca di Sperlinga, che aveva sede dove adesso c'è il carcere minorile Malaspina, la stufa in terracotta smaltata è un pezzo raro. Si calcola che in tutta Europa ce ne siano solamente 15. Finita all'asta è stata posta a vincolo alla soprintendenza di Palermo, in quanto oggetto di interesse nazionale. E concludiamo con il calcio, siamo in Serie B, finisce Reti Bianche la gara d'apertura del campionato con il Palermo che non riesce a vincere sul campo del Bari, nonostante la doppia superiorità numerica. Di Mariano fallisce un rigore, Corini rammaricato. Il campo del Bari al San Nicola arriva un punto che alla lunga rappresenta soltanto una grande occasione sciupata dalla squadra di Corini. Contro i Galletti di Mignani i Rosa non riescono a sfruttare la doppia superiorità numerica. Nel secondo tempo sbagliano un calcio di rigore con Di Mariano e beffa finale. Si vedono anche annullare per fuorigioco un gol di Brunori a tempo ampiamente scaduto. Una rete è giunta oltre il centesimo minuto al culmine di un match nervoso caratterizzato oltre che dalle espulsioni per Maita e di Cesare nella ripresa. Anche da 11 cartellini gialli, il forcing dei rosa-nero nella fase più importante della sfida si è rivelato piuttosto sterile e le difficoltà a tirare in porta e a sfondare sulla trequarti hanno portato Corini a variare anche tutto l'assetto offensivo proprio prima del triplice fischio, poi giunto oltre il centoquattresimo minuto. Sì, abbiamo fatto una prestazione importante. Il primo tempo è sicuramente equilibrato perché anche il Bari ha lavorato bene. Nel secondo tempo secondo me stavamo meglio, siamo partiti bene, eravamo più brillanti, infatti siamo conquistati la sua priorità numerica. L'abbiamo attaccato, abbiamo costruito occasione del gol, ci siamo presi un calcio di rigore che purtroppo non siamo riusciti a realizzare. L'abbiamo spinto sino alla fine, nonostante il Bari giustamente fosse tutto rinchiuso in aria, abbiamo creato altre due o tre volte e preso costi per fare gol. L'abbiamo fatto. Comunque c'è grande rammarico perché quando crei queste premesse queste partite sono da vincere. Ma no, nel primo tempo c'è anche il Bari che è una squadra qualitativa, è arrivata in finale di playoff a giocatori di qualità come Sibilli, come Nasti, come Dio, centrocampo che sa palleggiare molto bene, con Menali, Maiel, con Maitaghan, giocatori importanti. Dunque loro hanno fatto le loro cose, noi abbiamo fatto le nostre, ma nell'andare della partita vedevo che stavamo meglio e di fatto abbiamo creato le condizioni per vincere. Le partite si sviluppano oggi forse più di 100 minuti, visti i mega recuperi che ci sono stati. Peccato non vincere perché le condizioni per farlo le avevamo creati. E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio e tutto vi auguriamo una buona prosecuzione con la nostra programmazione del fine settimana, invitandovi a seguirci sui nostri social dedicati. Grazie. Grazie. Grazie.